Bella ragazzi, benvenuti finalmente alla demo giocabile di P.T. che sta per porca troia, no dai, sta per playable teaser E' praticamente la demo giocabile del nuovo Silent Hill, più che altro ne dà un assaggio delle atmosfere Ho sbagliato prima e l'ho avviato, perché c'è il simbolo del lucchetto, quindi ho detto, oh cazzo, magari non me la fa avviare perché non ho il plus Invece me l'ha fatto avviare, però l'ho tolta subito e non so se cambia qualcosa, quindi vediamo Se ci fa la paura, qualcuno si è annoiato, qualcuno invece no, c'è chi è morto giocando la demo, no dai Ecco, mi ha fatto prima delle scritte, lì in mezzo, non so se adesso il referri fa vedere, spero di sì Il cazzo fa vedere, porca puttana, vabbè non vi siete persi nulla Ecco, vediamo P.N.L.U.1 che passeggia Allora, vi dico già da ora che mi dovrete dare una mano, mi dovrete dare una mano, lo so già Mi hanno detto tutti che è impossibile da finire Vediamo E' un po' scuro, eh Qui c'ho un tavolo, ma vabbè Uh, l'allero, uh l'allà Figata Ah, aspetta Ah, ok, ho premuto a questo R3 mi pare Aspettate, devo leggere La mia figata La mia figata Ha ha un buon senso a cercare in la bambina Ma reports suggesti che luce laata Dijendole Dijendole Era solo un giro La ragazza Ha stata trovata in una chest Da un po' di bambina La madre Che era trovata in una stessa Era pregna At that time Polizze arriva Scegliere Dopo i vecchi Voi trovati 9-11 Voi trovati 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 Dio che era come si chiantava qualche spiglia strano. Un'altra famiglia è morta nella stessa stessa l'anno, e nel settembre, l'anno scorso, un uomo ha usato un uomo per le uomo per la sua famiglia. In ogni caso, i perpetratori erano i paesi. Che è Elvis? Che cazzo è quello? Probabilmente... Cioè, guardate tutto il casino che c'è. Sono caramelle, cioccolato, che buone, medicine. Senti, un rumore strano. No. Niente di... di utile. Vabbè, andiamo avanti. Aspetta un secondo. Non ho capito se i tasti servono a qualcosa, perché... No, i tasti non servono. Per ora. Madonna che eccesso. Guardate la faccia di lui, è fierissimo, contento. Guardatelo, è felicissimo. Smettelo di ficcare il pisello dell'aspirapolvere. Infilerai dentro lei, che schifo è quella cosa. Non so cosa sia meglio, però vabbè. Sigarette. La radio. Aspetta, provo a prendere un po' i tasti. No, non succede niente. Oh, che bello. L'impatto grafico è... Pazzesco. Veramente... Fatto bene. Che cazzo è la tesa stanza? Devo essere sbagliato qualcosa. Comunque, vi stavo dicendo, mi servire il vostro aiuto. E se rimango bloccato, ovviamente. Perché ci hanno fatto gli stronzi. Non ditemi cosa devo fare. Se rimango bloccato, vi chiedo... Boh, manca metà foto. Vi dirò... Ragazzi, ditemi che cazzo devo fare. Qui sempre le medicine, mischiate le caramelle. Aspetta. La porta è chiusa. Prima era aperta. Quindi qualcosa è cambiato. Eh... Vabbè. Cazzo devo fare. APRITI! La sfonda testate. Aperti. Non si apre? Questa non l'ho provata prima però. Aspetta. Non si apre. Guardate il cesso. Parca puttana. Io me ne vado a casa. Ciao. Io... Se fossi stato... Nei panni di questo tizio... Probabilmente avrei sfondato la porta per uscire da questa casa a testate. Ma si apre sta merda? Apre di cazzo! Non si apre. Non si apre. Guardate però com'è bello illuminato qui. Provo a passare di qui. Non lo so. Sta luce fa il rumore di un forno. Non lo so. Non lo so. Non lo so. Non lo so che tanto mi succede una cosa del genere. E' tutto troppo tranquillo. Perché la porta è aperta? Porca puttana. Porca puttana. C'è... Minchia. Cioè... A parte lo zoom... C'è un altro tasto. C'è un altro tasto che funzionano? No. Aspetta eh. No. Solo lo zoom. Smesso di... Di fare il rumore. Pilino che cazzo ci fai qui? Vai a comprare giochi su Steam. Cioè non... Una cosa che secondo me dovrò mettere in questi giochi quando ci sono le fotografie così. E' tipo far battere le palpebre. Tipo questo qui... Le avrei fatto battere le palpebre. Sarebbe stato fighissimo. Mi sarei cagato addosso. Porca troia. Con la porta si sfonda. Non lo so. Si sfonda. Pino dammi una mano. Pino. Pino Blattino. Vabbè io me ne vado. Fottiti. Ma si può andare anche al piano di sopra ragazzi? No. No. Non si può andare. Riguardiamo i cessi. Bisogna guardarli. Ogni tanto bisogna guardarli. Si dopo mesi... Non ho ancora comprato un microfono a parte. Come avete detto delle cuffie. Ecco. Anzi l'ho comprato. Dir la verità l'ho comprato. Ma chi segue la mia pagina Facebook sa già che... Il microfono non è mai arrivato a casa mia. Si è perso... Non so dove... Forse... Fra le gambe di... Pino L1. Non lo so. Si è perso non è più arrivato a casa. Come cazzo è possibile? Guarda l'unico... L'unica cosa che mi hanno detto di fare è di... Osservare molto per... E io non mi giro. Faccio il moonwalk. Non mi giro. Perché tanto appare qualcosa. Non mi giro. Non mi giro. Mica mi sto facendo avere ansia per questo gioco. Porca troia è buio. Sono solo in casa. Devo giocare lì in compagnia questi giochi. Io vorrei salire di sopra ma non fa. Guardate il cesso. Guardate lui dovete vedere. Guardate quanto è felice. Smetto di ficcare il pisello dell'aspirapolvere. Questa merda. Continua a fare questo rumore. Sono uscite blatte. I figli di Pino L1 sono usciti. Vi schiaccio. Minchia si è aperta la porta. Eh un cazzo. Cioè si si è aperta. Sto cercando di sbirciare. C'è un bambino lì dentro. Figliolo. Arrivo. Ma non. Cazzo devo fare. Minchia. Secondo me ne sbuca qualcosa. Oh e non si vede niente. Tua mamma. Puttana. Che cazzo era. Minchia. Sto morendo di caldo. Non so. Perché c'è un freddo del cristo fuori. Però. Ho caldo adesso. Se guardo a destra. Perché voglio vedere se sta registrando bene. Che questa HTPV era di merda. Mi ha fregato più di una volta. Pino. Seguimi. Dai. Andiamo. Tira fuori la pistola. Figlio di Pino. Tira fuori il bazooka. Dai. Adesso è stato un pianto. Mmm. 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 Che bella posa plastica. Mmm. Mmm. Io me ne vado. No dai. Dobbiamo avvicinarci. Però. Ma l'immagino. Mi salta addosso. Mmm. Mh. 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 Ma se guardo di nuovo qui. Riappare. Mh. Fa uno zoom assurdo. Mh. Guarda lo zoom che fa. È più pronunciato di prima. Mh. Mh. Vedete questo. Tipo zoom normale. Ok. Guarda adesso Va più in fondo Voglio vedere la tavolata del cesso C'è qualcuno? Minchia ha rotto il cazzo È bello di piangere Mi sembra di guardare Un porno giapponese Oh Obblah No Tutti i figli di Bino Spariti Io proseguo Ah C'è di buona che almeno è tutto ben illuminato Quindi Tutto ok Perché non c'è lo spostamento Lo spostamento di lato Tu vuoi che io entri là dentro C'è una torta C'è uno al centro No dai entriamoci Basta perdere tempo Entriamoci Facciamolo L'ha fatto in automatico Altri figli di Bino Minchia ha figlio Ha figlio ovunque Bino No 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 Cazzo mi trovo Apri Sono nel cesso ovviamente Dove mi trovo Forse è una salumeria Non lo so A te Pino Bravo Vai nel tuo habitat naturale Che cazzo è questo Che cazzo Sento passi Non piangere merdaccia C'è qualcuno Sento passi Stai zitto merda Lo posso scaricare nel cesso Ma che schifo è un feto Aspetta Si vede anche il cuoricino che batte Ma scaricano nel cesso Dai Non vorrei uscire ma deve uscire In un modo o nell'altro C'è un buco Mi sembra di vedere qualcosa nel buco Forse un bug grafico Questo è il buco che ha fatto il tizio Perché La moglie non gliela dava Quindi ho fatto un buco nel muro Tra l'altro i vecchi tempi Oh non posso vederlo in faccia però Non farmi questo Magari devo rimettermi così E fissare vero? Che poi il protagonista di questa devo Dovrebbe essere E anche il protagonista del prossimo Salenti Norman Redus Che è E' uno dei protagonisti Di The Walking Dead Ehi merda Sei qui? Non c'è la merda per ora Loro sempre felici Siccome tipo cambiano le loro facce Diventano mostri Lui da Lui da felice passa a triste Perché Non gliela da Sento la radio di nuovo Oh cazzo Perché c'era un'ombra dietro di me Cioè dietro di me Davanti a me Cioè guarda è l'ombra Non fidarti dell'acqua del rubinetto Che cazzo vuol dire? Ma hanno sbagliato a tradurre Inizia Minchia Non sono spolluoni sottotitoli non ci sono e non c'è un cazzo cosa devo guardare alle mie spalle brutto stronzo c'è un cazzo cosa devo guardare vabbè me ne vado vaffanculo guardate le spalle non c'è nulla per me sta avendo molta ansia rischio l'attacco di cuore cioè vedete che proietta un'ombra davanti a me ma non è la mia a meno che lui non cammini così ma qui non devo non tocca la e la tocca adesso merda la porta è chiusa però oh fammi entrare no rotta in culo minchia ho paura minchia mi sta avvenendo l'ansia però pino che cazzo fai lì ahhh cazzo parca puttana oh no sono morto ma mi ha sbraghettato mi sta facendo un pompino ho detto guardati alle spalle rotto figlio di puttana mi son cagato porca puttana ma è finita la demo così finisce no minchia mi son cagato minchia mi son cagato porca puttana aspettate devo riprendermi aspettate devo riprendermi aspettate sperate però adesso ha la torcia almeno c'è ancora la torcia si oh posso illuminare le zone in buio qui non c'è un cazzo qui c'è un tavolo però e c'è un sacchetto ma lì c'è ma lì c'è lì c'è la torcia è una realtà separata l'unico me è me sei sicuro che l'unico te è tu cosa ma quello è che dov'essere il culo di pinolo uno guardate ha contato anche i giorni tutti contati i giorni senza il corpo di pinolo uno giorni senza il mio padrone tutti segnati guardate minchia ma sono tutto il in tutto il muro minchia ragazzi troppa ansia mi dispiace ma devo tagliare il gameplay qui e ci vediamo al prossimo se se sopravi off per ora ce l'ho fatta quindi non dovete darmi consigli per ora vedremo nel prossimo ciao a tutti ciao a tutti